all'angolo blu giulio brizzi ecco che arriva un bel applauso altro fighters per l'angolo rosso thomas nigru un applauso eccoci qua siamo pronti eccoci qua Grazie. 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 Buongiorno andato, ragazzi molto preparati, ecco qui pronti per il secondo round, su questa categoria sono due minuti, avete visto che due minuti di combattimento sono lunghissimi. Un centricolo, vai, un centricolo, qualcosa, curioso, vai, in angolo di braccio, bene, basta che non ci si, vai, bene, puoi dire i colpi e sta finito, puoi dire i colpi e sta finito, e sta finito. No, esatto, va bene, va bene, esatto, va bene, esatto, quella, quella, quella va bene, esatto, bravo, bravo, bravo. Vince per finalizzazione Arm, Loc, Brizzi, angolo blu.